Un percorso formativo di eccellenza post-diploma altamente professionalizzante con l'obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di accompagnare le realtà industriali verso le nuove sfide della transizione energetica e digitale. Si chiama Energy for Industry 2023, il biennio ad alta specializzazione tecnica e tecnologica rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni che Fondazione ITS Energia ed Ambiente presenta per il prossimo biennio ad Arezzo. Riusciamo a fare dei corsi attinenti agli argomenti ambientali e dell'energia che poi fanno trovare al 90% lavoro a tutti i partecipanti nell'arco di due anni in poco tempo dopo che hanno finito il corso. Credo che questi ITS siano veramente una potenza di fuoco per quello che è il mondo del lavoro giovanile e credo che vadano stimolati e accresciuti il più possibile. Ormai tutte le aziende coinvolte in ITS fanno molto affidamento sui corsi che ogni anno vengono portati avanti proprio perché li trovano l'infa per le proprie necessità professionali che poi danno anche la possibilità ai ragazzi di crescere. Un percorso nato dalla collaborazione con alcune delle più importanti realtà produttive del territorio aretino. È una sorta di meccanismo virtuoso che permette a noi come ABB di partecipare ai corsi di formazione con corsi sulla mobilità sostenibile e poi allo stesso tempo avere direttamente in azienda questi ragazzi una volta che hanno concluso il percorso all'interno della scuola. Quindi riusciamo a dare una doppia formazione. Molti temi sono di sviluppo piuttosto recente quindi non ci sono formazioni che possano dare, formazioni diciamo così pregresse che possano aver dato le competenze necessarie. Quindi assolutamente sì penso che questi corso e un po' tutte le impostazioni di ITS possano dare un'ottima risposta per le aziende.